Metti insieme paesaggi inaspettati, degustazioni di prodotti tipici e buon vino, tanta allegria e una salutare camminata lenta. E sei nella Magna Longa di Celenza Valfortore. Una bella esperienza per immergerti nella storia di un territorio, nei paesaggi di acqua e di boschi e nei sapori delle antiche ricette e delle tradizioni del comune d'Auno, con origini preistoriche e ricco di testimonianze. Annunciata per giovedì 25 aprile la seconda edizione di Magna Longa, a posti limitati e chiuderà domani, domenica 21, le prenotazioni per la partecipazione. Prenotazioni che sarà possibile effettuare collegandosi al sito della Proloco di Celenza Valfortore, organizzatore con il patrocinio del comune della iniziativa, che promette ai partecipanti un percorso enogastronomico lungo le sponde di uno dei laghi più belli d'Italia, percorso intervallato da quattro tappe di degustazione, a partire dalle ore 9 con punto di ritrovo presso il Belvedere Cerulli. Il percorso di quasi 10 chilometri si concluderà alle ore 12 con la quarta ed ultima tappa di degustazione, rappresentata da un vero e proprio pranzo, che rafforzerà quello spirito di socializzazione che non mancherà di accomunare i partecipanti. Allora ultime ore per poter partecipare comunicando semplicemente la propria adesione senza limiti di età sul sito della Proloco di Celenza Valfortore e appuntamento al 25 aprile per una nuova e bella esperienza tutta da vivere e tutta da raccontare.